Allora, sono 36 anni che il Centro Santa Chiara collabora con il Centro di Eccellenza Feininger. Diciamo che era nata negli anni scorsi come rassegna estiva autunnale. Da qualche anno è diventata un'attività delegata, la provincia stabilisce più o meno le linee e i contenuti, dopodiché il Centro Santa Chiara ha questo incarico di realizzare questa rassegna. Diciamo che il Centro Feininger è stato sempre scelto per la loro capacità di ricerca storica e per poi la realizzazione con la corale, con la musica. Insomma, è il Centro di Eccellenza effettivamente della musica antica in Trentino, forse non solo il Trentino. È una rassegna che durerà parecchio perché parte col 13 settembre e andrà fino a quasi metà dicembre. Ogni settimana ci sarà un evento che riguarderà per lo più la Sala delle Marangonerie del Castello del Buon Consiglio, però anche altre chiese, San Francesco Saverio. Ci sarà anche una chiesa di Livo dove verrà realizzata un'opera. e la novità di quest'anno sarà questa collaborazione con l'Università di Trento e un professore dell'Università di Trento, che è anche un compositore, il professor Uvietta, realizzeranno un'opera particolare. Oggi è stata presentata proprio dal preside di Dipartimento Gozzi e ha tutte le caratteristiche per essere anche un evento da non perdere, mi pare, nella chiesa di San Francesco Saverio. Noi vi aspettiamo, sarà un autunno particolare e l'eccellenza assoluta della musica antica in Trentino.